Ad una settimana dalla scadenza dell'ultimatum lanciato dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, che ha fissato al 26 ottobre il termine ultimo per la definitiva riapertura del cantiere ex privilegio alla Mattonara, continuano a pervenire alle redazioni giornalistiche mail che mettono in dubbio la reale consistenza economica e patrimoniale della Royalton, la società maltese che ha acquisito l'area e lo scavo P430 all'asta fallimentare. L'ultima perla merita di essere raccontata perché fa riferimento ad uno scoop che era stato lanciato ben 14 anni fa al momento dell'apertura del cantiere privilege, rivelatosi poi una classica fake news. In quella circostanza si favoleggiava sul nome di chi fossero i personaggi che avevano commissionato l'enorme yacht il cui scheletro da anni fa brutta mostra di sé, dando il benvenuto a Civitavecchia a quanti arrivano da nord. Molti lo hanno dimenticato, ma allora si era scritto che gli acquirenti del mega yacht fossero niente meno che Brad Pitt e Angelina Jolie, all'epoca felicemente sposati. Adesso, stando a quanto raccontano diverse mail provenienti dal Montenegro, un personaggio di origine serba, specializzato nel produrre scoop a pagamento, starebbe per lanciare i nomi di Madonna e Leonardo Di Caprio come possibili nuovi clienti della Royalton, interessati a vedere completato al loro gusto lo scafo P430. Per gli estensori della mail si tratterebbe di un ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi. La storia merita di essere raccontata a titolo di cronaca e perché, anche in considerazione dei nomi che vengono tirati in ballo, lascia chiaramente intendere come dietro questa vicenda del cantiere ex privilege ci siano interessi particolari. Fortunatamente però ormai ci siamo, ancora una settimana, e finalmente si saprà se Civitavecchia si troverà di fronte ad una proposta seria o all'ennesima presa in giro, di fronte alla quale andrebbe immediatamente voltata pagina.